Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Fiorella Mannoia ha recentemente condiviso su Instagram un aneddoto esilarante avvenuto durante il suo tour in Italia. La cantante, insieme al marito Carlo Di Francesco, stava soggiornando in un hotel quando si è verificata una piccola disavventura. Mentre erano seduti a pranzo con Michele Bravi e altri amici, Fiorella ha raccontato che, dopo essere salita in ascensore, si era resa conto di non essere convinta dell'abbinamento dei colori del suo abbigliamento. Decisa a cambiarsi, è tornata in camera, ma non ricordando il numero esatto. Ha individuato quella che pensava fosse la stanza giusta grazie al cartellino non disturbare sulla maniglia. Ha iniziato a bussare insistentemente, convinta che Carlo fosse all'interno, finché una signora americana, visibilmente infastidita, ha aperto la porta. Imbarazzata, Fiorella si è scusata e si è allontanata rapidamente, ovviamente non mi sono cambiata, raccontando poi la storia tra le risate.